Le origini del castello Sforzesco risalgono al XIV secolo, quando Galeazzo II Visconti diede inizio alla costruzione di una rocca difensiva. I suoi successori amplificarono e diedero un aspetto meno spartano all'edificio, destinandolo a dimora permanente della dinastia e Viscontea. Alla morte del duca Filippo Maria nel 1447, la Neorepubblica Ambrosiana ordinò la completa distruzione della rocca, che avvenne fortunatamente in modo parziale. Nel 1450 Francesco Sforza, abbattuta la Repubblica, prese possesso del castello e diede inizio alla costruzione di un fortilizio, in seguito trasformato in una creazione architettonica con apparenza di dimora signorile. Inizialmente i lavori furono affidati a Giovanni da Milano e Filippo Scorciali, poi proseguirono sotto la direzione di Jacopo da Cortona. Nel 1452 il principe ingaggiò il filarete per la costruzione della torre mediana della facciata principale, costruita però due anni dopo sotto la guida di Bartolomeo Gadio da Cremona. Alta 70 metri, è detta torre del filarete o anche dell'orologio. Fu distrutta nel 1521 per essere riedificata ai primi del Novecento dall'architetto Luca Beltrami, nella sua forma originaria. Durante il dominio spagnolo e l'epoca napoleonica il castello subì ancora varie trasformazioni finché, con l'annessione della Lombardia al regno di Sardegna, il vecchio maniero non passò al rango di caserma e nel 1880 ne fu sentenziata addirittura la demolizione. Per volontà dei milanesi e l'intervento della società storica lombarda fu scongiurato ogni intervento e nel 1893 Luca Beltrami poteva iniziarne invece i lavori di restauro. La facciata principale, verso Piazza Cairoli, ha al centro la torre del filarete. A destra e a sinistra si dipartono le solidissime cortine in laterizi, in cui si aprono sei grandi bifore dalle ricche cornici in cotto. All'estremità sono le due torri cilindriche a bugnato. Sul lato sinistro si trovano la Porta di Santo Spirito e il Rudere del Rivellino. Si nota inoltre la differenza di altezza e di ornato tra il muro perimetrale della Piazza d'Armi e l'esterno della Rocchetta, appoggiata alla torre angolare chiamata Castellana. La facciata opposta presenta i simmetrici corpi di fabbrica. Dalla Porta del Filarete o dalla Porta di Santo Spirito si accede alla Piazza d'Armi, il cortile più vasto del castello. Lungo la fronte interna si allineano la Rocchetta, la torre di Bona Savoia, la pusterla dell'ingresso ai musei e un lato della Corte Ducale, da cui sporge la bella ponticella del Bramante. Il cortile della Rocchetta sorge sul sito della Rocca Viscontea. Alla sua costruzione hanno contribuito Benedetto Ferrini, Filarete e Bramante. Le sale di rappresentanza e l'appartamento privato del Duca sono disposti invece intorno al cortile ducale, chiuso in fondo dal portico dell'elefante. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.